Ciao a tutti, io mi chiamo Michael in Artestix e apro questo canale YouTube perché a me fare video su YouTube è sempre stata la mia passione e apro questo canale YouTube per parlare di calcio in generale perché è da quando sono bambino che ho sempre visto il calcio come uno sport magnifico e apro questo canale YouTube anche per parlare della mia squadra del cuore cioè la Lazio, il professor della Lazio quando sono bambino e è nulla, è questo. Quando c'è la Lazio appunto ecco io sto facendo adesso questa presentazione del mio canale appunto dopo i sorteggi del candero di Serie A che andrà pure male, però beh, subito con la Lazio ad avanti così e niente, su questo canale appunto parlerò di fare analisi delle partite, gli acquisti che farà la squadra, però anche degli altri, acquisti delle altre squadre, comunque un po' tutto in generale del calcio e niente, è questo. Se volete eseguirmi io non l'ho qua. Ho detto che poi vi faccio io fare i video perché mi diverto, è una passione che ho sempre dovuto fare, però che non ho mai avuto quella spinta per comunque iniziare a farli, però mi sono deciso, mi sono deciso e ho detto oggi iniziamo e iniziamo questo percorso, quindi niente, questa è una presentazione di presentazione di questo canale e niente, il campionato adesso inizia per Lazio, per la mia Lazio inizia al secondo perché appunto l'Atalanta ha detto che vorrei rinviare la partita perché l'ultima che ha giocato in c'è, non so, beh, però proprio, però beh, adesso non stiamo parlando di questo, quindi niente, io chiuso qui questo, questo video della presentazione del canale e se volete seguirmi, a mia famiglia, ciao!